Yeah yeah! Alle donne Eh, due cose, curve delle ragazze o curve dei nostri manubri, ma penso che sia meglio la prima. Se devi segnalare delle curve pericolose al tuo compagno, come fai? Le segnalo semplicemente con la mano. Eh, non l'avverto, vai tranquillo, io dico. Con chi dormi? Di solito con la mia ragazza, con l'Osli. A questo ritiro sono con Ulissi, però solitamente sono con Bertagnoli. Non il tuo compagno, a casa tua. Eh, non avevo capito la domanda, beh, certo, ovviamente con la moglie, sì. Immagina che ci sia una salita durissima, cosa dici al tuo compagno per incitarlo? Prima o poi si scenderà. Dai, tieni duro che manca poco. Il tuo compagno deve conoscere una bella donna, come le incoraggi? Ma, non bisogna essere timidi. Tanto se ti vuole, che sei timido o no, va bene. Se non ti vuole, è inutile. Eh, gli dico fatti coraggio, vai, c'è niente di possibile. Il difetto del tuo compagno? Tirchio? Eh, che è troppo veloce. Dagli un consiglio. No, consiglio non ne ha bisogno. Non lo so, eh, non saprei, è uno che ha bisogno di pochi consigli, quindi mi trovo impreparato su questa domanda. Salutalo. Ciao, Gavazzi. Ciao, Damiano.